E c'è una notizia che riguarda la pallavolo su scala nazionale perché Giuseppe Manfredi Pugliese, il nuovo presidente della federazione italiana pallavolo, proclamato ufficialmente nella giornata di oggi, era il candidato unico in questa tornata elettorale per il rinnovo delle cariche FIPAV per il quadriennio 2021-2024. L'elezione si è tenuta nella Sala delle Armi del Foro Italico a Roma, Manfredi ha ottenuto 12.822 voti, il 95% dei voti verificati e nel quadriennio sarà accompagnato dai vicepresidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi, classe 53, nato ad Alberobello. Manfredi negli ultimi due quadrienni è stato già vicepresidente nazionale dopo una lunga trafila come dirigente federale a livello territoriale in Puglia e il secondo numero uno pugliese della FIPAV, 33 anni dopo la presidenza che fu affidata al barese Pietro Floriano Florio.